La psicologia dell'età evolutiva e del ciclo di vita si occupa delle caratteristiche psicologiche di ogni tappa della crescita e della vita dell'individuo. Questo è importante, quindi ogni tappa. Lo studio della psicologia dell'età evolutiva considera lo sviluppo psichico analogo al processo di crescita fisica. Il punto di arrivo di tutti i processi è quindi la maturità psicologica. Si distinguono poi uno sviluppo cognitivo, uno sviluppo affettivo e uno sviluppo della socializzazione. In passato questo settore della psicologia studiava quindi soprattutto l'infanzia e l'adolescenza, ma attualmente si indaga sulle caratteristiche psicologiche che cambiano o restano immutate nell'arco della intera vita. E' appunto per questo motivo che si parla della psicologia evolutiva e del ciclo di vita, quindi la vita in tutte le sue fasi. Nei secoli passati si riteneva che non vi fossero differenze sostanziali tra adulto e bambino. Ai bambini non veniva infatti riconosciuta una specifica identità, e per questo motivo venivano inseriti nelle attività lavorative e ricreative degli adulti. Secondo gli etologi, in periodi di alta mortalità infantile, come ad esempio il Medioevo e i primi secoli dell'età moderna, si preferiva fare molti figli sapendo che molti di loro non sarebbero comunque sopravvissuti. Ecco, ricordiamo che l'etologia, dal greco ethos e logos, intesi come carattere o costume, quindi ethos, e poi logos, quindi lo studio, indica la moderna disciplina scientifica, quindi l'etologia, che studia l'espressione comportamentale degli animali, compreso l'uomo, seguendo gli stessi criteri scientifici con i quali viene condotta la ricerca in altri campi della biologia. Quindi, avendo un gran numero di figli e essendo normalmente queste famiglie in condizioni di povertà, questi genitori davano inevitabilmente poche cure e poche attenzioni a questi figli. Dal 700 in avanti si diffonde invece una sensibilità per l'infanzia che porta a nuovi studi e ricerche e alla comprensione delle molte differenze, ovviamente, che esistono tra adulto e bambino. Il ciclo di vita è quindi la successione delle tappe dalla nascita alla morte che gli individui solitamente attraversano e comprende l'intero arco della vita di una persona, come abbiamo già accennato. Alcune di queste tappe sono inevitabili, come ad esempio la pubertà, la scolarizzazione, la maturità, il pensionamento, inteso come termine dell'età produttiva, eccetera, mentre altre dipendono dalle scelte della persona, ad esempio il tipo di lavoro, il matrimonio, avere figli o no, eccetera. Altre tappe sono probabili, ma non certe, ad esempio perdere un genitore, presto oppure tardi, rimanere vedovi, eccetera. Ogni età ha le sue caratteristiche e le sue difficoltà e richiede capacità di adattamento. Le tappe sono determinate sia dai ritmi biologici sia dai tempi dati dalla nascita. La psicologia del ciclo di vita si occupa dei cambiamenti e delle trasformazioni di un individuo dalla nascita alla maturità alla vecchiaia. Bene, diamo un'occhiata adesso ad alcuni di questi stadi, ovviamente non potremo concludere l'argomento in un video soltanto, però partiamo ad esempio dalla prima infanzia, che si colloca da 0 a 3 anni. Quindi lo sviluppo psichico determina in questa fase il passaggio da una condizione di dipendenza assoluta dall'ambiente, come ovviamente possiamo immaginare, a una dipendenza relativa, da una condizione di generale passività a una progressiva attività. La nascita è il passaggio dall'ambiente stabile e protettivo dell'utero materno al mondo esterno. Alcuni autori hanno parlato di trauma della nascita. I primi contatti con l'ambiente sono mediati dalla madre e grazie a questa relazione si stabilisce un legame o attaccamento, questo è proprio un termine tecnico, lo so che lo usiamo tutti i giorni, ma anche in psicologia dell'età evolutiva si parla proprio di attaccamento, che sarà fondamentale per costruire sicurezza e identità personale del bambino. Poi si ha la fase dell'allattamento e dello svezzamento, quindi abbiamo denominato appunto con l'espressione freudiana di fase orale, e poi il primo accenno di distacco dalla madre si ha con i primi movimenti autonomi del bambino. Poi successivamente con la deambulazione autonoma, quindi il bambino che inizia a muovere i primi passi da solo, quindi senza alcun aiuto, che si ha normalmente tra i 12 e i 14 mesi, si avvia un processo di separazione dalla madre, che contribuisce fortemente alla costruzione dell'identità individuale, e questa è la fase dell'individuazione-separazione. Lo sviluppo cognitivo è strettamente connesso in questo periodo alla percezione senso-motoria, e quindi si parla di intelligenza senso-motoria. Quindi sempre in questo periodo si passa dal semplice riflesso ai primi comportamenti non innati, quindi ai primi movimenti non innati, e successivamente, interiorizzando le azioni compiute, il bambino raggiunge, intorno ai 18-24 mesi, quella che viene definita intelligenza rappresentativa, che è appunto legata all'uso del linguaggio. Velocemente, quali sono le tappe dello sviluppo del linguaggio? Sempre stiamo parlando, vi ricordo, di prima infanzia, quindi da 0 a 3 anni. Allora, gli studiosi distinguono un periodo prelinguistico, quindi basato sulla comunicazione non verbale, e soprattutto, ahimè, per i genitori, sul pianto, che in qualche modo sostituisce le parole, e si parla, infatti, di pianto differenziato, e poi un periodo linguistico vero e proprio, che ha inizio intorno al terzo mese, con il balbettio. Dopodiché, intorno all'ottavo nono mese, si hanno i fenomeni della lallazione, bellissimo questo termine, e li conosciamo benissimo perché la usiamo noi stessi, questa lallazione verso i bambini, è un esempio, potrebbe essere bubù, lallà, cicci, eccetera, eccetera. Quindi, successivamente, le prime parole, basate su sillabe tutte uguali, come ad esempio mamma o papà, e poi, ancora successivamente, le prime forme di comunicazione linguistica, che sono le parole-frase, parole-frase, cioè una sola parola che esprime una intera frase dal significato complesso. Verso 18-24 mesi, poi, il bambino inizia a costruire frasi di tipo compiuto di due parole, ad esempio, associa la parola mamma con la parola pappa, che significa, appunto, mamma ho fame, voglio la pappa, eccetera, eccetera. E da qui lo sviluppo procede, poi, con la costruzione di frasi sempre più complesse. Bene, passiamo adesso alla seconda infanzia, che va dai 3 ai 6 anni, e le cui caratteristiche sono la conquista di una maggiore autonomia, la ricerca di un controllo sull'ambiente, l'inizio di un controllo sfinterico, e questa detta fase anale, l'avvio di processi di socializzazione, e la comparsa di una coscienza morale, quindi differenza tra bene e male. la capacità di conservare un'immagine in se stessi, nella propria mente, delle figure di riferimento, quindi soprattutto la madre, consente al bambino, ripeto, grazie alla capacità di conservare questa immagine in sé, consente al bambino di avere una più ampia autonomia affettiva. Cosa intendiamo per autonomia affettiva? Cioè la consapevolezza che la madre non scompare per sempre, solo perché si allontana per qualche minuto, va nell'altra stanza, e che quindi il legame rimane costante e stabile, e si parla qui di costanza dell'oggetto, fa sì che il bambino possa poi avviare autonomamente la ricerca di un adattamento all'ambiente, prendendo appunto iniziative di controllo, che può essere reale o anche fantastico, sull'ambiente stesso che lo circonda, e questa è appunto una delle caratteristiche di cui abbiamo parlato prima, quindi la ricerca del controllo sull'ambiente. Bene, due parole in più sul controllo sfinterico. Allora, questo processo coinvolge appunto diversi processi maturativi. Quindi il bambino può usare le feci per esprimere sia aggressività, nel caso di appunto feci espulse, o feci trattenute, o addirittura feci che sporcano, sia attaccamento, ad esempio le feci come regalo. Il bambino prova per la prima volta sentimenti legati alla pulizia, al pudore e alla vergogna, e conquista, o meglio inizia a conquistare autonomia imparando a dire le parole no e la parola io, quindi affermando se stesso e la sua volontà. Per la prima volta il bambino si trova di fronte, scusate, a quelle che vengono definite spinte morali, quindi il superio, che sono però in questa fase ancora molto rudimentali e basta, sono ancora molto rudimentali. Allo stesso tempo inizia a provare cos'è il senso di colpa. Dai tre anni in avanti i bambini sono frequentemente inseriti nella scuola materna che è per loro la prima vera esperienza di distacco dalla famiglia e qui vivono il confronto con gli altri in un gruppo di pari, quindi non hanno più solo come riferimento i genitori, i nonni, gli amici dei genitori, eccetera, quindi degli adulti, ma dei propri pari. Iniziano a giocare un'attività che progressivamente da egocentrica, quindi il bambino che gioca da solo con i suoi giocattoli, quindi da egocentrica diventa appunto sociale proprio perché sono inseriti in un ambiente di loro pari. Queste sono le tappe iniziali della socializzazione. In questa fase della vita del bambino il suo pensiero è principalmente intuitivo, in quanto manca la capacità di operare in modo logico. L'esperienza percettiva del bambino è quindi fondamentale per la costruzione del pensiero. Bene, concludiamo spendendo due parole sulla terza infanzia che va dai 6 ai 10 anni e questo è il periodo dell'ingresso nella scuola, come tutti sappiamo, che è un grande cambiamento, appunto il grande cambiamento che segna l'inizio di questa fase che è la terza infanzia. La scuola è la vera e propria società del bambino, il luogo dove esso acquista uno specifico ruolo sociale e dove gli vengono anche fatte richieste e assegnati compiti specifici. La terza infanzia si caratterizza rispetto alla prima e alla seconda per un maggior equilibrio emotivo del bambino, fase che Freud definisce la fase di latenza. In questo periodo il bambino appare come davvero un piccolo uomo con un suo spazio naturale ben definito. Le tensioni delle relazioni con i genitori tipiche delle cosiddette fasi edipiche tendono ad attenuarsi e anzi grazie all'identificazione con i genitori visti come modelli positivi si rafforzano nel bambino le difese dell'io e dell'identità. Il gioco che prima era egoistico e poi sociale diventa organizzato e il bambino interagisce con naturalezza nel gruppo dei suoi coitani. Si forma nella mente del bambino un codice morale più preciso e meno rigido rispetto a quello dell'età prescolare. Il pensiero inizia ad acquistare delle capacità logiche che prima non aveva anche se queste capacità logiche sono ancora basate su dati concreti e gli studiosi parlano di intelligenza operatoria concreta. Il bambino è in grado di formulare concetti e anche il linguaggio si arricchisce favorendo la comunicazione sociale. Bene, come già accennato non tratteremo tutte le fasi del ciclo di vita però spero che abbiate trovato questo video interessante e vogliate approfondire. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti e alla prossima.